Ritorna anche quest'anno dopo il successo della scorsa edizione il Festival del Socio, Fiera dell'Economia Locale, promosso dalla Banca del Nisseno. L'appuntamento è l'8, il 9 e il 10 agosto a Sommatino. Tre giorni di degustazioni di prodotti tipici locali, spettacoli, artisti, giochi e ospiti che allieteranno le serate. Il cabarettista di Zellic Giovanni Cacioppo il 7 agosto, il mago Cirus l'8 agosto e infine i cabarettisti Totti e Totino il 9 agosto. Spazio anche a un concorso di estemporanea di pittura intitolato Scorcio di Sommatino di ieri e di oggi tra storia e cultura guardando al futuro. Forti dell'esperienza dell'anno scorso, per il secondo anno abbiamo trasformato la formula, quella che era la festa del socio, quindi una festa riservata ai soci e alle loro famiglie, quindi nel chiuso della nostra comunità bancaria, l'abbiamo allargata alla comunità al territorio. L'anno scorso a Sera di Falco, quest'anno a Sommatino, un'altra piazza storica di nostro insediamento storico dove coinvolgiamo l'intera comunità, soprattutto l'economia locale, quindi ecco la fiera dell'economia locale. La banca del Nisseno mette a disposizione questi stand, si fa carico di tutte le spese e dà una possibilità quindi non solo alla comunità di vivere un momento di unione e anche di gioia, ma anche ai commercianti di dare una loro possibilità di visibilità e di affermazione. La festa è prevista per il 7, l'8 e il 9 di agosto, coinvolge l'intera giornata, in particolare poi nelle ore serali ci saranno degli spettacoli molto attraenti, ci sarà anche prevista una mostra, una pittura estemporanea, quindi con il coinvolgimento anche degli artisti locali, sono previsti anche degli spazi per i bambini, per i più giovani, soprattutto sono previste delle animazioni interessanti per le famiglie, quindi un modo anche di coinvolgere la comunità, non solo quella sommatinese, ma anche quella dei comuni. Nei limitrofi l'anno scorso abbiamo avuto veramente migliaia di affluenze anche dal capoluogo, quindi da Caltanissetta, anche da Canicattì, da Marianopoli, dagli altri comuni viciniori. Invito pertanto tutti a partecipare, è una bella occasione, un'occasione d'incontro, un'occasione anche di scambio commerciale, un modo per ravvivare l'economia locale, per stare insieme e anche sostenere in un momento di difficoltà famiglie e imprese.